Allora, sinceramente non so se me la sento di fa' questo video, come non me la so sentita di fa' video per un anno, ci sono gli uccelli che cinguettano, spero che vi piacciano, però lo voglio fa' e lo devo fa' Per finire l'anno in bellezza, perché voi vedrete questo video il primo gennaio, ma io lo sto registrando il 31 dicembre, non gennaio, 31 dicembre 2020 in cui finisce quest'anno di merda Non pensavo potessero esistere ulteriori dispiaceri, invece sì, quest'anno diciamo che ha fatto schifo per tutti Quindi vi pubblico questo video il primo gennaio, un po' per ripartire col piede giusto, un po' per augurarvi un buon anno nuovo, un felice anno nuovo, se spera incrociamo le dita E un po' per chiudere il 2020 in bellezza, insomma, per quanto si possa definire tale Io in realtà non me la so mai sentita di registrare o parlare o aprirmi in questo periodo, soprattutto io di solito dal 31 dicembre al primo gennaio ogni anno sto in lutto Quindi neanche festeggio, ma letteralmente perché ho avuto un dispiacere grande, una morte violenta del mio passato che ancora mi condiziona Per questo voglio fare un qualcosa di diverso e parlare con voi e augurarvi un felice anno nuovo Allora, faccio questo video soltanto perché voglio, non lo so, a caso parlare di quello che ho mangiato in questo periodo E farvi una specie di elenco e spero che tu che vedrai questo video, anche se ormai non è che me vedano tante persone perché ho preso una pausa lunga un anno Togliendo quei brevissimi periodi in cui ho pubblicato comunque video, cioè non diciamo cavolate, comunque ho preso una pausa lunga un anno Me ne dispiaccio però è quello che mi sono sentita, ho deciso diciamo di abbracciare i miei problemi, di abbracciare la mia depressione Anziché farmi vedere sempre felice e sforzarmi come facevo tempo fa, ho deciso semplicemente di vivere quest'anno come me la sentivo Cioè senza dire nulla, scrivendo, infatti se volete andate a vedere i miei cortometraggi, ne ho pubblicati due, uno è privato Vabbè comunque andate a vedere nel mio canale Makeup, è il primo cortometraggio in assoluto che ho scritto e diretto E il terzo invece è Irrispettuoso che è un cortometraggio che riguarda il coronavirus, lo potete trovare sempre, è il penultimo video, quello prima di questo L'altro per ora è ancora privato ma poi ve ne parlerò Allora diciamo che quest'anno mi sono data la pazza gioia col cibo, noi abbiamo sempre parlato di cibo nel mio canale Quindi insomma mi sfogo un pochetto, voglio dirvi quello che ho cucinato, quello che ho preparato, quello che ho mangiato, quello che hanno mangiato i miei cani Durante queste feste sono stata veramente un maialetto, cioè ho mangiato di tutto e di più Ho mangiato soprattutto porcherie, è la verità, però non mi sono neanche fatta mancare la verdura Perché quella fa sempre bene, cioè se mangiate porcherie dovete anche mangiare verdura, se no come andate a cagare Quindi menù di queste feste, alla vigilia di Natale, io festeggio la vigilia, a parte aspettate Da ottobre, da Halloween fino ad oggi ho mangiato un happy hippo al giorno quasi praticamente Ne avrò mangiati 4 a settimana Amo gli happy hippo, sono tornati in vendita, non ce posso credere, questa è stata proprio la gioia del 2020 che vale tutto l'anno Io festeggio la vigilia di Natale, non a Natale, cioè a Natale pure mi sfondo dei cibo, però festeggio tra virgolette la sera della vigilia Dovete sapere che quando ero piccola io non mangiavo praticamente nulla la vigilia di Natale Perché andavo a casa di mia nonna, tutti sapevano che io non mangiassi pesce, perché io non mangio pesce, odio il pesce Io ho avuto degli shock anafilattici col pesce E davano da mangiare 3 ovoline, le mozzareline piccole, neanche di bufala e la cicoria Quindi questo è sempre stato per 15 anni, più o meno, il mio menù della vigilia di Natale Assurdo, quindi adesso durante le feste devo riprendere questo dispiacere, questo trauma dei Natali passati in cui non mangiavo E da qualche anno a questa parte, anzi 4 anni a questa parte, cucino sempre io alla vigilia Sia alla vigilia che a Natale che a Capodanno in realtà, però mi aiuta anche mamma, soprattutto a Natale Perché mamma a Natale fa la lasagna, quella con ragù, buonissima, cioè solo lei la sa fare in quel modo Io odio la besciamella, quindi non la mettiamo nella pasta al forno Non ci mettiamo neanche le uova perché sono intolleranti, anche se le potrei mangiare ogni tanto, le odio nella pasta al forno E quindi facciamo la pasta al forno a Natale con lasagna, sugo con panna, che è buonissimo Mischiato sugo e panna è veramente... e ragù Oppure la salsiccia quest'anno ci ha messo mia madre, è buonissima Invece il giorno della vigilia ho preparato una lasagna vegetariana che appunto faccio da 4 anni E la faccio con lasagne, fiori di zucca, zucchine, piselli e panna E ci metto pure la rubiola da qualche anno a questa parte ed è buonissima Poi ho cercato di fare i falafel perché dovete sapere che io amo il kebab Infatti sempre da ottobre a questa parte mangio una marea di kebab Però non kebab con carne ma anche kebab con falafel Che sono la cosa più buona del mondo I falafel sono tipo delle pol... ma vabbè ogni cosa che vi racconto per ogni cibo di cui parlo Vi dico che è il più buono del mondo Dovete sapere che per me ogni cibo è proprio tutto... è buonissimo Non esiste in realtà un cibo più buono dell'altro Troviamo il cibo in generale Il mio cane abbaia Scusate stavo dando da mangiare al mio cane Nina Pubblicità, io voglio far riprodurre Nina Voglio farle fare dei cuccioli Quindi se avete un cane maschio e siete di Roma Su Instagram mi chiamo una polpetta per amica Contattatemi Fine pubblicità Stavo dicendo che i falafel sono delle polpette di ceci buonissime Che si possono fare sia fritte che al forno Io so che quelle che mi vado a piacere il kebabaro sono fritte Nella vigilia volevo preparare o almeno provarci Provare a fare i falafel al forno In realtà mi è venuto uno schifo Non si dice sulle cose da mangiare Però vi assicuro che erano immangiabili Infatti li ho buttati praticamente tutti Perché non mi si mixavano come si dice Non mi si frullavano i ceci Praticamente io dovevo fare una specie di purea di ceci Per poterci comporre le polpette Invece rimanevano intatti Come ti posso abbiamo mangiato i nachos Comprati la busta quella dei patatine Sempre fatte dei legumi E ho fatto una salsa Non so se voi siete fan di Old World West Però Old World West c'è una salsa meravigliosa Una salsa rosa Non ho mai capito cosa ci fosse dentro Ho sperimentato, ho cercato, ho fatto le mie ricerche da FBI Ok? E ho trovato che la salsa Old World West si fa mischiando Ketchup, maionese e salsa tartara Ed è buonissima L'insalata russa Vegan In realtà ecco la vigilia è stata l'unica sera in cui non ho avuto tanta fame Tutti gli altri giorni mi sono veramente sfonnata di cibo Ho mangiato come se non ci fosse un domani Sì ho mangiato un po' di insalata russa Senza uova Ho fatto l'insalata russa vegan Perché essendo intollerante alle uova E non potendone mangiare tante Nella lasagna, proprio nella pasta della lasagna Ci sono le uova E ho preferito limitarmi a quello Tutto il resto l'ho fatto vegan Anche se non sono vegana E non sono neanche vegetariana Semplicemente non mangio pesce Il giorno dopo mamma ha fatto l'abbacchio Che però mi fa impressione Come mi fanno impressione i conigli e i cavalli Io non li mangio Non so cosa io Che problemi io abbia un giorno Magari ve lo racconterò Vi racconterò la mia alimentazione In un video Nel senso che vi dirò Quali dilemmi io mi faccia Prima di mangiare Cioè ci sono delle carni Che non riesco proprio a mangiare Pesce non lo mangio Altre invece mi fanno un pazzì Tipo le salsicce le adoro E stasera infatti mangerò salsicce E tutto qua Poi ha mangiato il pandoro Placcato di cioccolato esternamente Io ho sempre odiato i pandori ripieni di cioccolato Invece quest'anno era buonissimo E quindi dopo due giorni che mi sono strafugata Di questo pandoro Ho scoperto che dentro c'era liquore Io sono anche a Stemmia Ecco volevo farvi un elenco Quindi a pippo Lasagne I giorni successivi Alla vigilia E a Natale Abbiamo fatto tortellini in brodo Abbiamo riscaldato le lasagne in padella Che sono ancora più buone Di quelle appena fatte Stasera invece Che è capodanno Quindi il 31 dicembre Farò una gricia con carciofi Che adoro E la faccio buonissima Mi dispiace per voi Che non viviate qua dentro Perché veramente Io sono bravissima a cucinare I modesti a parte È la verità Farò con Cacio Pepe Guanciale E carciofi Che avrò lessato prima Non quelli congelati Perché dentro c'è l'aceto E una volta ho fatto la pasta Con i cosi Come cetrioli Stavo a dire E una volta ho fatto la pasta La gricia Con carciofi Congelati E sapeva tutto di Aceto Era orribile Poi farò una fonduta di asiago Quindi formaggio sciolto Con fegola di patate Viene una cremina Che si può Mettere ovunque Sia sul pane Che sulle salsicce Che sulle zucchine Infatti Questo è ciò che cucinerò oggi E poi il programma per stasera È vedere un film Su Netflix Aspetta la mezzanotte Con il mio cane Vicino vicino Perché c'è da gente stronza Che continua a fare I fuochi d'artificio E non capisco perché Non siano fuori legge Questi fuochi d'artificio Ogni anno Dicono Quest'anno non si fanno Sono fuori legge Invece io Cioè Dove abito io Ci stanno solo negozi Di fuochi d'artificio Ormai pure L'Ital e l'Eurospin Stanno dentro I fuochi d'artificio Spiegatemi il senso Poi io c'ho il terrore Che magari uno schioppa Mentre sto là vicino Ne abbiamo sentite tante No? Di fuochi d'artificio Che sono scoppiati Dentro ai negozi E sono andati tutti a fuoco Cioè io odio I fuochi d'artificio Non li fate Vi prego Perché i cani Poi stanno malissimo Loro sentono più di noi Infatti Anche in lontananza Quando sento un fuoco In lontananza Nina inizia ad abbagliare Eppure tutto il vicinato Comincia a abbagliare Poveracci Cioè ma che cosa c'è De bello nei fuochi d'artificio Ma non esistono Senza rumori Questa parentesi a parte Perché ho fatto questo video Elenco di ciò che ho mangiato Di ciò che continuerò a mangiare Diciamo che Le feste Ho capito soltanto col tempo Sono feste per tutti Quindi è inutile Di no Ma io sto a dieta Quindi mangio meno Cioè se volete farlo Ok Siete liberissimi di farlo Però non vi sacrificate Per qualche chilo di troppo Perché tanto quelli si elevano Poi non è che Strafogandovi a vigilia Natale Capodanno Voi possiate mettere 10 chili 10 chili li mettete In base a come vi comportiate Tutto l'anno Io vi dico che Quest'anno ho mangiato Un bel po' Dopo tra l'altro Il video in cui Ero al mare E vi ho detto Di voler dimagrire Io mi sono guardata In quel video Ho detto no Ma non voglio dimagrire Mi piaccio Quindi ho un po' Un rapporto Altalenante con me stessa Però quest'anno Ho preso più consapevolezza Questo è il lato positivo Del 2020 Ho capito che Se ho fame Mangio e basta L'importante è che Il giorno dopo Mi faccio le mie camminate Faccio ciclette Per quanto La mia cascatto Me lo possa permettere Comunque So gestire meglio Il mio corpo E vi invito Ad imparare A gestire meglio Anche il vostro corpo Perché non succede niente Se vi strafogate un giorno L'importante è che Vi vogliate bene Vogliersi bene Secondo me Che non sono una nutrizionista Vuol dire anche Concedersi degli sgarri Cioè lo sgarro Serve sempre Io quest'anno Mi impegnerò A sgarrare Solo 14 Scusate Due volte A settimana Tutto qua Volevo soltanto Farvi gli auguri E farvi capire Che tutti Ci strafoghiamo In questo periodo Dell'anno Volevo 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 Semplicemente Ammettere Non le mie colpe Ma quello che ho fatto Cioè voglio che Nel 2021 Voi capiate Che non è una colpa Mangiare tanto Cazzo Ma un'altra mezz'ora De video Ma come faccio A parlare così Tanto Eppure Volevo lasciato Volevo lasciato Per un anno Torno E riparlo Per mezz'ora Ma sono normale In sostanza Non è una colpa Mangiare così tanto Tra l'altro Il 4 gennaio Sarà il compleanno Di mia madre Quindi rimangerò Già so che voglio Ordinar la pizza A taglio Crostino Buonissima E farò pure la torta Con ricotta E cioccolato E il 6 Poi è la befana Ma la befana A me non è mai piaciuta Tanto Però certo Se trovo qualche pippo In più Nella calza Che metto In cucina Non è che io Mi metto a piangere Nel senso Ne sarei molto felice Non è che con pezzo Così Ma neanche così Di lasagna Possiate mettere Tutti i chili Che vi immaginate Diciamo che questo È stato soltanto Un pretesto Per ricominciare A parlare nel canale E per vivere diversamente Un giorno Che da 7 anni A questa parte Per me È un giorno Di merda E voglio renderlo Meno da schifo Quindi mi pongo Anche l'obiettivo Di fare un video Ogni capodanno E chissà Se riuscirò A tornare Io vi devo pubblicare Ancora delle interviste Che risalgono A un anno e mezzo fa Infatti Mi odierà la gente Sicuramente La gente che ho intervistato Perché non Io ho più fatto Saper niente Ho soltanto detto Che sono stata in depressione Spero che abbiano capito Anche se Tante persone Non capiscono Ma altre tante Capiscono Quindi so Chi mi rimarrà vicino Nonostante questa mia assenza Lunga Ho deciso Che vi farò Dei video In cui vi racconterò Tutto quello Che mi è successo Quest'anno O almeno quasi tutto Quello che mi è concesso Perché in questo mondo Non si può mai parlare Del tutto Perché se no Si va incontro A problemi seri E io Veramente Mi hanno tappato la bocca Per tanto tempo Per cose che Neanche ora Vi posso Vi posso dire Però sono cose Molto gravi E io ho bisogno Di parlarne E sto cercando Di capire come fare Non vi preoccupate Tanto ci sto abituata Non è nulla di così grave Anzi è gravissimo Però comunque Ci sto abituata Quindi questo È il lato positivo Poi mi avete aiutato Anche tramite Instagram Ripeto Su Instagram Mi chiamo sempre Una polpetta per amica Questo è il mio nickname Quindi se volete Seguitemi Così possiamo parlare In maniera un po' più intima Diciamo E voglio pubblicarvi Anche un video In cui vi spiego Come ho scoperto Di essere in depressione Come fronteggiare La depressione E tante altre cose Vi siamo Buon anno Grazie per aver visto Questo video Ma non credo tanto Che l'abbiate visto tutto Perché mi sa che La fine durerà 42 minuti Ciao polpette E a presto Stavolta a presto